Carissima mamma, quindi lui sta facendo il militare, quando riceverai la presente avrò già preso il volo per raggiungere la legione dei volontari di rannunzio. Questo è stato sempre il mio sogno fin da quando si cominciò a mormorare che fiume non sarebbe stata italiana. Basterebbero queste toccanti parole di un giovane soldato aquilano per capire il peso che ebbe d'annunzio nella crescita di autostima del popolo italiano impegnato nella guerra impari contro gli austriaci per replicare a chi sta promovendo in questi giorni una petizione a Trieste contro la posizione di una statua in piazza e una mostra nell'anniversario dell'impresa di fiume. A dire il vero si tratta di un'iniziativa di mera polemica politica tra maggioranze d'opposizione nella capologo friulano. Il governo di centrodestra finanzia una serie di iniziative per l'anniversario dell'impresa di fiume, una statua in bronzo in piazza e una grande mostra di cimelli. L'opposizione di centrosinistra contesta la spesa ed avvia una petizione arrivata già a 1.500 firme perché ritiene, tra le altre cose, che la statua di D'Annunzio non sarebbe degna di ergersi al fianco di quelle di James Joyce e Umberto Saba. In un passaggio della petizione si arriva addirittura a scrivere la biografia letteraria e politica di D'Annunzio rassente il ridicolo ed espone il buon nome dell'Italia all'udibrio mondiale. Mai affermazione può considerarsi più meschina, testimoniando un elevato livello di ignoranza non solo di D'Annunzio ma anche della storia del nostro paese. Amici triestini, questa è l'occasione per voi di conoscere davvero Gabriele D'Annunzio perché questa polemica dimostra che voi di D'Annunzio non sapete niente e sapete soltanto quello che vi è arrivato orecchiando. D'Annunzio ha un grande rapporto con la vostra città perché D'Annunzio, ve lo voglio ricordare, è medaglia d'oro al valore militare di una guerra vittoriosa che è stata combattuta per la vostra liberazione dal gioco asburgico. D'Annunzio non solo è un eroe di guerra che quindi va onorato come gli eroi di guerra con statue ma è un grande protagonista della letteratura italiana e della letteratura europea dell'Otto e del Novecento. Trieste era il punto di raccolta di tutti i volontari che poi andavano a fiume perché per andare a fiume dovevano arrivare Venezia, Trieste e poi di notte tipo con trabandieri perché c'era il blocco dell'esercito italiano, scavalcare delle colline e piccole montagne per passare a fiume. Ma cosa direbbe oggi Gabriele D'Annunzio di fronte a questa polemica così sterile? D'Annunzio era molto ironico nei confronti dei suoi detrattori quindi sono certo che con la sua amabilità che tutti gli riconoscevano avrebbe saputo convincere anche i triestini. Un epiteto che si potrebbe dare a questi signori che avrebbe potuto dire D'Annunzio Catoncelli stercorari. Catoncelli stercorari. Catoncelli stercorari. Catoncelli stercorari. Natunzio sera molto per i Großvigio perché la sua amabilità è un bel funglia prodotta oggi. Grazie a tutti.